Novena a Sant'Antonio da Padova, nono giorno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sant'Antonio, innalzato alla gloria del cielo, intercedi per noi presso Gesù e Maria. Sì per tutti l'amico fedele, attento ai nostri bisogni. In mezzo alle nostre gioie, alle nostre pene, guidaci sul cammino che porta a Dio e che si aprano infine per noi le porte del Regno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debituri. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, al Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.